Ragazzi, diteci se ci siete, se si vede tutto. Ditemi se sfrema perché potrei sfremmare io. Ragazzi, non so più cosa dire, non mi funziona più una sega, non so. Ci siamo, bimbi? Sì, sì, Artem dice che ci siamo. Ok, funziona fluido, dai. Io mi stai riconnettendo. Bimbi, non so che sta succedendo. Perché c'avevo tutto al mio computer. Ma che buon fatto! Dal piano di sopra uno. Bene. Ma sono utile, c'è... C'è... Che senso? Ma in questo vocino mi si rompe il cuore. Quale vocina, aspetta? La vocina di uno che sta per tirarne tante, dici? Quella vocina. Eugenio, anche io voglio imparare le termite. Questo è il sacco. Ok. Mi sono provato. Io mi sono riconnesso comunque. Ehi, lo sto rambiando. Mamma mia, come mi ha preso. Ah, ragazzi, vorrei sapere che... Come si chiama quello che uso io? Aspettate un mio ricordo di nome. Jekyll è rotto, vi faccio vedere com'è che si perde con Jekyll. Intanto prendete il disindisco che ha preso Eugenio. Marco, solo perché streami tu adesso non è che devi fare il leader. Alice, io sono il leader di questa stanza adesso. Ragazzi, lei finisce qui, io mi ricordo che finiscono qui. Allora, Gislam. C'è Caveira? Alla 23 e 24. Che te dici? Può farbacolina. Sì, sì, no, ho detto ACP. Caspite ruola. Non sono in cucina. Una barba di Mosè. Penso di Merlino. La barba di Giuseppe. Di Giuseppe. Salutiamo Altafine. Sono proprio gli sti. No, no. Mi ha fatto fuori. Uuuu. Tutti da doc. Sì. Ha fatto una strage, lui. Eh? Hello. Sì, è lei. Pa, 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 pa. No, buo. Ma in serio? Ma in serio? Accipigna. Eh, Accipigna. Soppressa, hai finito. C'ho fatto adesso. Cristo. Traslochi ogni volta. Se lo vincio, ho zariate case, non è colpa mia. Eh, Luca Spadoni, che sei? Meglio. Ragazzi, guidatemi, dove devo andare? Proprio lì, vai. Va bene. Do le bombe. Wait for me, che stavo per fare cose. No, devo fizzare, devo fizzare. Lasciatemi fare. Sì, sì, andiamo. Non so, vieni sopra. Andiamo all'ultimo e ripropiamo. Proprio, pia. Chiudzing. Eh? Cluster charge. C'è mute. Eh, vieni su, vieni su. Scansiono le impronte. C'è uno appena di sotto. Arrivo. Cioè, qua puoi romper la botola, eh. Ah, romperla tu, scusami. Ah, hai rinforzato, ok. Occhio passa a dire. Arriva dalle scale qualcuno, mi sa. Mette un frost. Smirata. Vediamo se ci casca. D'occhio. Che cazzo? Mamma mia, soffri, che spavento. Cristo Dio benedetto. No, 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 no. Dove sta Capcan? No, lo posso fizzare, eh? Wait. Ok, ok. Marco, ci sono anche io dietro di te, eh? Ok. C'è mute, da qualche parte. Per l'amor di Pietro, soffri. Ok. Non riesco a scansionare le impronte, io. Cazzo. Cassiopeia. Soffri qui. È la, è la. Ok. Dove? Dove? Qua, davanti a te Alice. Qua, metà vita. Era su B. Ma Marco. Hai già gatto. Alice, se no io planto. Ah no, non ce l'ho io il Disney. Oh, cazzo. Ce l'ho io. È sua, è sua. GG. Beh, l'altro, GG. Ok. Ma dov'è Capcan? Bravo Samba. Grazie. Flores Marconi, no ma... Faccio schifo a questo gioco. Io la sua difesa ha lasciato talmente solo che ha chiamato persino il suo avvocato. Sì, che bello. Il commento d'alta fine sui vecchi PES. Vado. Ragazzi, no, vogliamo... In proposito di cosa? Mi è venuto in mente... Vogliamo commentare la scelta che ha fatto Maze? No. Ok. Vabbè, non la commentiamo allora. Understand, voleva Alice. Ok. Vabbè, non la commenteremo. La inglese schifo è tirata per Blackbird. Magari. Ora andranno in cucina, ragazzi, ve lo dico io. Io avevo chiesto a mia mamma di mandarmi un messaggio quando aveva fatto le castagne, ma mi sa che non mi ha mandato il messaggio. Ok, non ha fatto le castagne. No, no, erano... Stavo facendo. Durante il pre-live. Magari l'ha bruciato e non vuole dirtelo. Ciao, abbone, bellissimo. Abbonsio! Ciao! Ciao! Ragazzi, non mi ha fissuto? Sì, ma si scopri la cattabomba, masco. Ragazzi, non mi ha fissuto? Io resto qua. Mi noteranno? 10 secondi. Oh! Oh! Sì, però, lasciali in una posizione che si veda qualcosa. Sì, esatto. Guardate dove sono! Sì, sì, no, ma... Guardate il muro, ne è a guardare. Girato... Girato verso di loro. Eh, poi sì, si può misurarlo. Eh, ma se muori prima, c'è... Sì, lo girato, lo girato, lo girato, lo girato, tranquillo. Ok. Gli aspetti mi fizzare, eh? Sempre, sempre scuro. Ah, no, aspetta. Ela è scura, ela è scura. Frost è giù. Capisco. Non hanno mute, eh? Vai. Ehm... Non riesco a... Cosare l'impronte. Hai visto qualcuno? No? No, sto rompendo. No, sta parlando con me. Ah, sorry. Ehm... Ho messo per sbaglio una... Cosa. Ah, sì, la costa. Sembra pulito qui, qui, so. Ok, giù in fondo c'è Doc. Ok. Merda. C'è il... Lì davanti. Morta, morta. Marco, non entrare. No, no, tranquillo. C'è la defuse, alis. Ehm... Io non sto più vedendo mezza... Mezza impronta. Allora, c'è Doc che è su... Prima era davanti a... Dove sta lì, c'è più o meno. Come ti chiamava questo qui? Su, ah. No, io, genio. Non si vuoi mettere il colpo. Eh sì, tua nonna. Ehm... Nooo. Fuck off. Eh, ci stavo zaccato. L'ho sentito. No, l'ho sentito. Che infartino. F. Quella frast ce l'ha fatta sotto al laso. Ah, ci ha proprio gabbati. Ci ha giocati. Mamma mia. C'è sto vedendo. Povera nonna, ma no. Salutiamo intanto la nonna che ci segue sempre. Ciao nonna. Ciao nonna. Ciao nonna. Sì. Provo a cambiare mirino, eh. Mmm, ok. Dite... Quello che stavo usando prima, Pinfest, sia abbastanza broken. Sì, già, grazie. Cosa con il genere che si merita delle nonna che non sanno cucinare. Aia. Aia. Domandone, vai. Per me il problema, Alice... Pinfest, una via. Non voglio lasciato monopolizzata, così. Srotto il cazzo, ragazzi. Avete rotto i coglioni. Allora... È diventata divertente la prima mezza volta, poi. rompete solo i coglioni, ovviamente si scherza. Cioè, no, non si scherza un cazzo. Non è vero. Fa schifo la coga. No, la coga. Cosa c'è qua da vedere? Qualcosa interessante. Quindi si chiude. Eh no, ci metto il mira, scemo pollo. Scemo pollo, cos'è pollo ora? Un cazzo si mette. Dove è il pollo? Dove è il cristiano? Aris la conosco o voi no? Va, veramente... Veramente... Vabbè, lasciamo perdere. Fu bella. No, dice che lui non conosce voi. Ho capito. Mamma, mamma. Ragazzi, potrebbe aver fatto un errore. Cosa ho fatto? Ora si è scoperto dal garage fuori Marco. Oh no. Ma... Ah! Hai ragione! Hai ragione! Ho rischiato, ho rischiato, ho rischiato, ho rischiato. Non chiudere, non chiudere, no. Perché chiude? Perché stavano aprendo, ho paura. Ma è quel punto. Eh, ma appunto, si sparava. È quel punto. Non lo so, ragazzi, non so giocare. Hanno rotto qua? I cul... Da quella parte dove ho finito. Ho rischiato. Blitz. Grazie, Giuse. Attivo il sensore. Mi fa un culo. Grazie. C'è qua... Come ti chiama il signore col fiammifero? Maverick. Maverick, grazie. Blitz. Ciao, Blitz. Sta salendo le scale, ho già. Ecco, come stasera con le scale. Presa. C'è neanche... Qua c'è Maui. Ah, un po' di rischi di Marti maverick e l'alice è tanto. Non ho preso le blitz. L'ho preso. Ok, gli ultimi sono qua, giacali blitz. Ok. Blitz è super... Un po' di rischi di Marti. 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 Uno là, uno là. Ma li vedi col sensore? Sì. No, giacal lo vedo da un vetro. Blitz lo vedo dal sensore. Ok. Blitz sta scendendo. Sta... Sta correndo. Che sei da te, Eugenio? Boy. Anche che sta arrivando pure giacal. Eccolo qui. Oh, merda! L'ho visto troppo tardi! Cazzo, ci ho provato. Ma va. Ma come? Ti dovi fuori, comunque. Quanto ci sta mettendo, però? Dove cazzo sono? Non li... Erano da lì, c'è, ma ci metteranno mezz'ora. Ma infatti, era tutto... Isì. Qua c'è blitz, attento! No, infatti, GG, comunque. GG? È il corpo che è volato via! No, sto prì! Sopri! Pensavo fosse con lui. Ma non era neanche wallbangabile quel muro lì, perché stai con lui? Ah, lo so, stavo preferando. Alla faccia! Sono qui! Stavi preferendo o sprayando come... Ha fatto quell'azione là per perdere tempo e tu trasprachi così. Non ti giuro, c'è, hai capito? Hai capito? Hai capito? Vabbè... Vabbè... Quindi adesso ho voto per cucina. Ok. Non lo so, così a casa è l'altanoma. Scegliete voi. Nessun voto. Dunque, hai preso come secondario il pompo, vero? Sì. Ne avresti a rinforzare una e lasciare libera l'altra e rompere l'altra col pompo. Eh, sì, sì. Per continuare a insappiccare... Quindi tu dici che devo fare di ciò. Ok. Chi rinforza le botole? Allora, potrei essermi torto di asci di Lisa. Forse, maybe. Si vocifera. Non ti credo. Grazie, Kenshi. Dicono dalla regia che... Che io non so che cosa fare ora. Entra l'ombrone, Marco. Oh, madòm. Qualcuno ha rinforzato, tu? No, io no. Devo mettere i cosi tra... Qua, qua è un zero rinforzato. Samba? Mi stavo sparando. Non ci sarebbe di essere. Eh, se vuoi ci faccio io rinforzare. Mi hai trovato una bomba. Prepararti all'ingaggio. Mi ho trovato. Ho capito che ti sto sul cazzo, però... Stavo sparando al burro. Ah, perché? Attenta, Alicia. Ci diamo una mano. Ora che si colpisce il muro non colpisce me. Alicia, io sono morto. Ma che posizio di merda ti sei messo? Ma non lo so, me l'ha detto Kenshi, io mi sono fidato. Eh, sì, è giusto. Però non devi romperla tutta, devi romper soltanto quella di fianco. Aspetta, io voglio vedere ora. Madonna. Ah, ok, capisco. Oh, fuck off. Eh, sì. No, no. Bacca. No, l'ho preso i piedi a metà vita. Ma perché hai fatto schifo? GG soppri. Ok. Understandable, è my nice day. Madonna santa, ragazzi. Understandable, è my nice life. Eh, scusate, ho memato tutto il tempo. Eh, ma Kenshi, allora che senso va a mettere in mira dalla parte opposta? Così che poi per me era scurato. No, è giusto. Tu devi rompere soltanto a metà tra le due pareti. Uno la rinforzi, l'altra no. Così si forma una specie di mezzaluna. E tu appena lo vedi, picchi e fai un colpo. Picchi e fai un colpo. Picchi e fai un colpo. Eh, sì, che era quello che volevo fare la partita prima, però poi non so perché ho rinforzato. Ma Kenshi adesso mi ha detto di rinforzarlo dall'altra parte. E dall'altra parte lo rinforzarono. Dovete invitare me su pressa, credo. Sì, sì, ho sbagliato anch'io. Io sono in tutto il mio città. Eh, io ti ho? Sì. I am pain, my cure. Marco Cercerlino nel 3.000. Esco e accetto. Ma sì, cagini, è quello che hai detto. Ma sì, non mi fiderò più di voi, bastardi. Scusate, riaccettate un attimo. Ah. Eh. Scusate. Ok. Dove rinforziamo le destra e invece quello di sinistra? Eh, appunto. Io pensavo che quello che mi ha detto Kenshin era di difendere dalla parte di garage che devo stare dentro garage a difendere l'ingresso. Che... No? Infatti andrà male. Cioè, non apre con Rainbow, vado in prova e faccio la foto che mando nel gruppo su Bini. Ok. Che è il mercato e mio padre compro. Esatto. Dai. È ranked, vero? Sì, sì. Ok. Bomba! Sensual! Un movimento sensuale! Un movimento omisexy! Rubata da Fabio, ciao Fabio. Ciao Eugenio, che saluta Fabio. Ciao Suppressa, che saluta a me, che saluto Fabio. No ragazzi, parco divertimenti. Ma ho dato che paura! Lo bannano loro, parco divertimenti, bannate confine. Lo bannano loro. Sopressa, questa volta ti è andata bene, hai vinto la battaglia ma non la guerra. Hai visto? Sì, mi sa, c'è la guerra di culo, c'è la guerra di culo. Io lo sapevo. Ah, ok. Nostra Dadus. Oddio. Mamma mia, soppri. Ma perché abbiamo invitato Sopri? Cioè, potevamo... Potevamo, non lo so, far giocare un sasso. Marco, hai postato Grinja? Ma non ho postato niente, ma non ho bannato Jackal, l'unico che non so usare me peggio, eh? Godax. Oh, questo. Bravo. Tu sai, Oger, quella cascata. Sì, quella cascata. Sì, quella cascata. Sì, buoni che siamo in live per tutti quanti. Ma ammazza tutti, ve lo giuro. Ovviamente intende di fare... No, che li ammazzo, intendo. Ma su Minecraft. Nella vita vera. Io ragazzi non conosco Dado. Papapaparararai ram. Guarda, non ho conosco. Sono un sacco Valkyrie. È vero, all'inizio usavi solo Valkyrie. No, ho messo sempre con tanto di tempera. E funziona così? Eh sì. Ho sempre sbagliato. Ragazzi, questa qui è vinta. 30 secondi dopo. Ragazzi, io vi giuro che... Farò delle cose terribili questo game con il mio toucher. Abbiamo irruzione pesante. Abbiamo... Eugenio. Hit me. Non so se prendere... Grazie mille per il follow. Benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto, benvenuto. Come? Vabbè, alla fine ho lasciato anche io la carica di riduzione pesante perché sì. Aiuto. Bravo Giuse. Mamma mia, che spicoloso che sei. Mi piace. È proprio divertente. Giuse, se è così coglione che hai sbagliato perché non esce il botto così. Esatto. Ah ah. Qua se non ci sono. Comando lo spazio. Eh sì. Ah ah. No. Ragazzi, io vi giuro... Noi invece sono giù, invece sono giù, invece sono giù. Non so se sei. Garage, garage. Vai! Come si scende? Forse di qua. Con lo scale. Lo scale? Uh uh. Ma non mi hanno visto. Non so di merda a previsare, ragazzi, che fiuso da sopra, eh. Quindi sei intrati in site, ditemelo. Le botte le sono... Uh. 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 È giù. Ah uh. Ha piazzato una camera, sicura. Da che ci possa arrivare. Abbiamo attimoriti. Ah, io passo dal... Oddio no, troppo rischioso passare da qui. E dici so tre. Basta. Sti cazzo. Bellissimo. No, Kimi nubo, fatto ritorno. Qua si dovrebbe poter fizzare. No. No. Sporficione indistruttibile. Allora proviamo dalla botola. Tutto posto. Dovrebbe esserci l'altra qui. Sì, sì, c'era un'altra. Ok, hai distrutto un po' di robe? Daia. Oh, cribio! Fuck! Bestia. Porca puttana che spavento. Piccoli brividi. Vai. Dove si passa? È là dopo c'è il profilo. Oh, nice. E questa? Ho preso qualcuno, eh? Mi dice tutto? No. Grazie. Sei tu, Dado? Eh, sì, ero io. Sono un coglione. Sono un coglione. Ero proprio io. Pensavo. Sì, interessa, sono ancora vivo, ma sono giù e mi devi rialzare. Sì, beh. Sono morto io. Ragazzetto, mi faccio. È dentro un bambino. Ma l'ha individuato, perfetto. Allora. Grazie per il tour della banca, Marco. Forza dove andrà a prelevare. Eh, vabbè. È un bisprudere. Madonna, ragazzi. Ma sono morto. Io sono morto. No, sbagliatino. Ma come al solito i miei riflessi sono Godlike verso gli alleati. No, ma a me è bianco il tegnuno che prende la tappa, ma sono un coglione. Cammino la prendo io. No, davvero. È per quanto è che ho... No, vabbè. Eh? È per quanto è che ho... Ma è che sta. Oddio. Madonna, ragazzi. Che dire. Secondo me, ragazzi, è già vinta. Perché ora abbiamo dato l'illusione. Esatto. Sì, esatto. L'illusione che sia tutto facile, capito. È un gioco psicologico, è come Rocket. Sì, sì, è un mindgame. È un gioco psicologico. No, perfetto. Mi raccomando, evitavo ancora quell'imbecille. Ma... Giuse, se tu vuosti il gruppo, non è colpa nostra, non ti abbiamo invitato, sei tu che non sei venuto. Oppala. Scusa, ma che è dato dell'imbecille. Ah, stanno sopra. Sono so. Non mi avrai, mi ha avuto. Ciao, bozzo. Ciao, abba. A caricare i miei missili? 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 Mamma mia, Giulia. Oh, Dado, ma fra tre giorni è il giorno? Sì, ragazzi, fra tre giorni vi stremiamo il Day One del DLC di Pokémon, che Dio ce la mandi buona. Sì. La missione è trovare... Ah. Ok. Quello è proprio uno scudo. Hanno posto? Cos'è quel... Perché c'è un pingo così? Hanno anche le Capcan. Eugenio, guidami verso... Leis. Eugenio, stiamo attenti alle trappole di cazzo. Sì. Guarda che sponchiranno questi pezzi di culi. Cosa vuol dire? Sei dentro o sei sopra? Abba, avevo letto male, scusami. Ho letto, eccomi back, invece no. Ah, anche io avevo letto quello. C'è Valkyrie nel corridoio. Ok. Qua c'è Valkyrie. In fondo è là. Mi hanno distrutto la vista là, l'udito. Eh, porca. Da dove? È sceso? Va per me. Cazzo. Cos'è? Ancora fuori. Questo è ancora fuori, sì. Ma che cazzo? Ma l'ho preso in testa, ma scusami. Guarda che sfondo qui, eh. Oh. Vai, fallo, bravo, bravo. Guarda che provarlo anch'io, non ci ho pensato. Oh, c'è Valkyrie nella stanzetta a sinistra. Ecco, quella là. Questa? Quella sulla destra. Questa porta sulla destra, subito. Ah, pensavo a destra-destra. No, la porta sulla destra. Eh, sì, sì, ero entrato, ma pensavo poi a destra della stanza. Oh, vai, Mark. Dai, soppri proprio un tappo. Soppri se Iana. Ok. Oh, no. Cosa accade? No, ti l'avevi visto? No. Io non l'ho visto invece. Che peccato. Mark mi ha detto, scusami. No, Alice? Ma, cos... Cosa avrebbe visto lui? Ha visto la gamba, mi sa. Ha visto la gamba, esattamente come ha previsto la sua gamba. Eh, sì. Che palle. Eh, no, gg, gg, gg. Assolutamente, every game soppri. Sì, no, soppri a volte fa delle cose buone. Come a volte? Non l'ho capito. Molto tirato, sì. Non te accetto quel buone. Sì, a volte. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Sopri guidami, fai una cosa buona. Saranno sotto. O archivi. No, sotto l'ho vinto. Ah, hanno già vinto, so, aprì sotto. Sono archivi. Valkyrie era... Il drone alleato ha trovato una bomba. Ho visto anche Legion, se non sbaglio. No. Buongiorno. Ah, faccio. Cinque secondi all'inserimento. Bomba individuata. L'obiettivo è raggiungere la disinnessarla. Forse non mi hanno visto il drone. It's time to termite. Sopri non lo fare. Perfetto. Ricarico, copritemi! Qui non si può rampinare, immagino. Da, ma anche no. E' un po' più da sopra. Cazzo. Chiudo dalla botola. Avevo uno dietro. Cazzo. 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 Valkyria di merda. Ma vaffanculo. Cazzo. 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 Non lo ho Giuse. Non lo ho. Non lo ho. Non lo sono in quattro. Loro sono in quattro. Ma sono molto forti. Allora, se ne sono prendo un prostrat apprendere io. Non l' mentivo. Che ne ho fino a Vigile! Giuse. Cazzo. è uno che non mi ricordo neanche in che squadra giocavamo una volta forse una partita di di champion di europa league era porta vuoto davanti la porta prende che un missile sugli spalti di chi allora di cui potrebbero benissimo entrare giusto ok che ringrazio è lo scudo mobile no era del livorno era giuse minchia io alla buona durante la live dei del torneo l'ho detto abbastanza spesso la posizione delle bombe è sicura che idea di merda c'è qualcosa grazie il mira comunque dice qua no no vabbè vado io a piccare mi c'è sceso dopo ha un timing di godlike comunque non è qua oh cazzo ok sono morto per feud sono felice e fioz anche osh bella tutti ma paffa la squadra d'attacco ha trovato una bomba è entrato non ho fatto un tempo a pingarlo un bel genio permetta provo prendilo sul tempo vai 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 buongissimo ma no soffriti oh lo ci sono io cioè mi siete fatti un paio di lisci tra soppressa e genio che boh madonna santa la squadra c'era quella accanto e io non sapevo dove era fuse sapevo che era lato e si sa so sparare a casa dappertutto so più sicuro non è come rock'n'roll no non è come rock'n'roll meglio la trappola su dock heavy è stata la migliore perchè non avevamo info su di lei è vero è vero è vero ok sta mappa non me la ricorderò mai attenzione la squadra d'attacco ha trovato una punta muro in sicurezza ora mi vedete ma soppri stavo per sparare al suo drone sono un mobile sono un mobile sei un mobile ho il più malvento ma che bello ah lo sapevo lo sapevo dai finestre fuse si ok un ats è distrutto non riesco per giocare controverso no che lag no eh ah ma sta dal tetto proprio di fronte alla bomba dell'edificio fuori non ho capito non te lo so spiegare termite fa mettere una kramer state giù giusto quello sta aprendo termite cioè mi volevo aprire dio e poi madonna cristo dio scusa giusto ok meno male sono doc soppri lo senti eh ma mer una persona ma buff da dietro mi sa soppri da dietro mi sa soppri erca marto che cosa sto vedendo ho che soppri c'è due cabiti sta arrivando no no con la mitraglietta poi soppri questa volta hai il mio gg si oh dio è il mio si 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 vaffanculo eugenio esci così almeno ti abbia soppresso l'emvp scusate ragazzi a vedere al giorno si fa una quickina si quick vai vai troppi spaventi guarda no invece è super bello io però ho tipo spento il cervello non so proprio beh contando le tupi ti aspetta una notturna su dark souls dove sei arrivata poi al loteric ancora fra poco posso comprire io sono a 7.000 anch'io 10.000 mi sono ficcato una matita nell'occhio cosa bravissimo marco marco ma perché sei così dal prossimo passo è ficcarsi perché non non segui hcc più hcc più ha scritto proprio hcc più nelle storie di instagram marisce dei corgi htc vibe hcc più sta cercando di comunicare i dettagli è con me allora me la stavo girando tra le dita è partita si è messa sotto gli occhiali dentro il mio occhio cosa ma che si impegno cioè io vabbè si impegno in qualsiasi altra cosa nella tua vita piuttosto che farti male grazie che mi hai costruito la frase perché pure io mi ricordo che stasera se io se non io mi piace se mi piacciono sensori buffi ai piani di gente magari non succede più non sono tipo social sto morendo no ma non è per quello ci faceva ridere l'hcc più non hai sbagliato che henshin è i e instagram che usa te ah ok ah henshin sei per caso mio nonno boomer boomer perché è un insulto c'è 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 un insulto rinforzato rinforzato la burda sbadi rinforzato mi spaghetto dado boomer stato molto bene sono nato di venerdì cosa cosa vuol dire scusami e questo nel mio posto piangerò no no dove la b ecco la parte di tutti qui sono tutti qui presando non sanno neanche dove la cap ok lo sanno senti cosa che era chi ti ha calcato ragazzi è stato piacere o 19 di vita che quindi sono tutti lì no più che figura di merda ragazzi non era da diventare mi sembra una persona che cazzo è che mi colpi i ciali trasmina colpiz vabbè ok solo perchè sei tu ok avete visto io sono l'ho ma vaffanculo l'individuatore umano si e se l'uab si però faccio schifo grazie è vero appone su instagram è il mio sogno erotico mamma mia su questo punto di vista dovrebbe dire sono un po' boomer si oddio no whatsapp pure no madonna sei la mia mamma sei che esci forum nel 2002 su forum community ero dato degli ugong oh mio dio forum community i giubbottini ci scherzi ma ci conobbi la mia ex forum community ma fai ti giuro ragazzi voglio tornare indietro nel tempo bro vedo già che mi sento che indietro nel tempo non mi conosceresti eh è quello il punto non mi conosceresti ti faccio dimenticare subito della mia esistenza fermo non dà colpa alla testa usi forum community ancora oggi? oddio io devo piacere il brito sei da solo però nel forum upstays upstays attenzione la tua risultata ho provato una lupa no volevo scriverlo io soppri ma qualcuno l'ho scritto pure il team vabbè il caricatore finalmente adesso so dove sono il coglione ecco a te ne butto uno per qui mi piace una mica in più e non che ci cascano che ci casca ragazzi c'è qualcuno dietro di me e pensa che sono un prisma mi sta scorrendo un cellulare pure quasi realmente successo ti giuro credo che un quadro mi abbia ucciso dove alice sono morto ho 20 di vita sono quasi morti qua c'è il cadavere di scrive no ma io ora inizia a fare il boom è pure io che così non mi chiama più è il 5g era per escare o cazzo che vuol dire ha piazzato disinescatore soffri no l'ho messo a terra mentre scava il cava ma vorrei tanto capire è nel frigo è nel frigo I want to move I want to move I want to move ma nooo ma non scambia a bar no ma no era un altro era un altro era un altro c'è la doia c'è la doia come mi ha preso quel comodino ha fatto molto male quel comodino ha fatto molto male si come fa la gente si l'ha spammato a buone era scordato totalmente che è un genio zio magabonk togli quelli termite avevo letto io sono d'armian aspetta hai preso blitz si lo voglio grazie a bonzio non si scordano i comandi belli perfetto non c'è un comando dovete usare il drone per trovare una bomba oh buongiorno oh in cucinia li sciò tu padre no tuo padre e tuo zio tuo padre e tutta la galassia hanno miotto hanno miotto oh cribbieroni scherzavo si scherza eh niente hanno miotto smoke e comunque esiste si che esiste si chiamano tutti i soppressi ragazzi raggiungete la bomba e disinnescatela occhi aperti per il nemico ok ma si sta subito mi sta subito faccio squillare penso che l'ho trovato poche voglia mi ha rotto lo scudo ma è semplice no c'era un'ora non è più il disinnescatore taglia sopra stavo lanciando la fumogeno in quel momento mi sa che è andato via ma cazzo ma cazzo c'è minuto no che palle c'è pulso flancato flancato occhio che c'hanno pulso non lo so sto cercando anch'io tanto si è rotto chi ha il disinnesco io lo piazzo semi coprita ma con che baffetti squilli disinnesco che cazzo devo fare io dalla mia vita non ho sentito che stava disinnescando eh ma c'era la mia guarda guarda come mi scammano il comando metallista oddio basta di riprendere tutti i comandi oscuri pane fa faciolini pure pane è tipo della prima settimana di streaming praticamente è nato completamente a caso poi sì a caso pane faccio c'è un commando bigfoot merton dai chiuso stavolta prendo io va bene yes quante b ci mettiamo 4,50 ciao vale ciao vale come va ragazzi io vedo in voi perché siamo qui è fantastico bigfoot salito ma ti prendessi tipo una palla per la casa altra scoppiata a ridere tipo no sai che memone dobbiamo peccato per il multicoli disco modo durante la live f no lo capiamo benissimo sì perché sostrimiamo a 7,20 perché almeno limitiamo i danni ancora 5 secondi abba tu non sei anziano sei maturo stagionato 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 sei fermentato a buon aspetta mi c'è sì io faccio sì ti conviene vale infatti estremi 70 30 vorrei sapere come fa la gente a concepire di potere vivere nelle case d'oggi ok let's go no 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 oh sì no oh sì oh sì oh sì oh no che non era la terra oh sì bravo bravissimo guarda il buchino là panicat scansiono stavo ricaricando in faccia la sua faccia sulle scale vai sopra abbiamo il disinnescatore c'è il defuser marco occhio no scusami via via quanta sua si si vi conviene plantare gg soppri 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 cazzo soppri no che big brain cristo guarda gg big brain place soppri winning condition ma davvero ma soppri poi non ci credeva quando dicevamo che volevamo arrancare con lui diciamo come cazzo ma cazzo come almeno in questo gioco soppri un figo almeno in questo gioco non hai capito la buone poi trolla eh che si che si non puoi fare imbecille deve bilanciare ma abbiamo diverse clip abbiamo le prove devo tirare fuori i love pakistan i love pakistan i love pakistan i love pakistan e poi si fa saltare in aria poi piazza la carica e l'ultimo che rimane 1,25 e la fa scoppiare le masche la sua parte non è vero non è vero non è vero non mi ricordo i love pakistan ho sentito rumore di fuse di mute volevo dire cioè c'è mute c'è mute c'è mute dove aspetta piani sopra va da che parte sono le scale c'hanno mute king aiuto madonna sta cominciando a sentire un'ansia terribile perchè vabbè c'è un esame domani non lo passi eh lo so che non lo passo per questo c'ho ansia vabbè se ne sai già scusa c'è stato dato se già salì un momento prima ti scoppiava la testa beh mi fa molto piacere no è sfondato mi sento cosare le porte l'hai lanciata a te sopra? si cos'ho fatto? scato che non ho il video attivo aspetta sono stato individuato perchè qui c'è una merda eeeh ho distrutto tutto ma dove? ma dove? no comunque si sono colpiti a vicenda altro però bomb lì c'è a destra? c'è la mia destra da dove? eeeh ho aperto il muro eeeh marco occhio a destra frizz ma scusa che ho fatto a non prenderlo mai? no perchè ha fatto un gioco di gambe che cosa? ha fintato di andare tutto a destra mentre sparava invece poi è tornato a sinistra e ha sparato ma c'è ancora nonna run c'ha nonna run ora voglio ma c'è essere finito a fare questo e dove? io non volevo fare questo ma tempo di morire sono un operatore d'attacco che vomitino lo senti? no non l'avevo sentito ragazzi ok no? perfetto bimbi ragazzi grazie mille per essere passati grazie a Ciprix per il pollo grazie Ciprix sei prezioso sei il mio migliore amico noi ci vediamo o no poi non vediamo più ci vediamo dopo noi ci vediamo dopo fra ah si? scusami per la corretta ah ok mi sembrava stranissimo si si ho visto Kenshin anche ringraziato ci vediamo ciao ragazzi a dopo allora ciao ragazzi ad aspettare Alice e a far e a darle il vostro supporto non so parlare ciao ragazzi andate da Alice e le dite ciao ciao sono Alice ciao ciao per chi l'ha bloccato l'automodo? vabbè ciao ragazzi